Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savino Tesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Un mondo in cammino, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Il popolo è in cammino e vorrebbe delle direttive da dirigere appunto per quanto concerne l'attenzione del popolo alla saggezza e quindi vive delle esperienze che nella loro saggezza danno molto. Un mondo in cammino cerca le buone virtù e solo nel Signore le può trovare. Il popolo cerca quindi dall'Onnipotente quella sfera di santità ricca di speranza per il diritto proseguo. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Un mondo in cammino. Il tuo popolo in cammino vorrebbe date giuste direttive per dirigere bene ogni respiro e far vivere sagge esperienze. Un mondo in cammino cerca le buone virtù per arricchire il destino di cultura sacra sempre più. Il tuo popolo ti cerca, O Santo e Onnipotente, e la tua speranza ricerca con forze esplicite e vehemente. Il tuo popolo vorrebbe seme di speranza e carità che farebbe accrescere il vivo senso di frantellanza e giovialità. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.